Oggi e domani sono due giornate veramente importanti, costruite dal basso. Io ti chiedo di fare un invito in queste ultime ore di andare a votare. Dico che stamattina sono andato al seggio, sono andato alle 11, proprio per fare questa cosa dentro mezzo giorno, devo dire che sono rimasto stupefatto perché era pieno di gente, è stata una cosa bellissima, pieno proprio pieno come non era neanche alle politiche, di gente che veniva, che andava e mi hanno detto che dalle 8 era così. Quindi che devo dire? Cioè veramente penso che questa è una spinta, un'emozione collettiva di tutti quanti, di tutto un paese che si sta riprendendo la propria vita, ci stiamo riprendendo il futuro, ce lo stiamo riprendendo il 12 e il 13 giugno, ma è anche un investimento per tutto, per la scuola, per la scuola pubblica che sta aspettando di tornare anche come scuola pubblica, adesso come bene comune sta aspettando che tutta l'Italia se la riprenda in mano, ma pure per il lavoro, per tutto quanto, veramente per rimetterci in piedi. Ogni voto è prezioso, nessuno pensi che tanto vabbè ci stanno gli altri, ormai è fatto, tutti quanti andiamo a prendere la testa elettorale, chi non la trova più se la va a riprendere, anche soltanto per dire comunque io quel giorno ho votato perché penso che questa è una votazione che resterà nella storia.